Ecco qua, guardi la stranatoria, ecco. Interessante. Questa è la donna che stava con il papeggio e che si è allontanata dal ristorante prima di lui. E hai saputo niente sul suo conto? Manco grazie, mi dite. Certo che ho saputo, ho parlato col portiere di Viale Garzo. E mi ha detto che questa si vedeva spesso col morto, prima che fosse morto. E poi lui a lei la chiamava Frizzi. Frizzi. E abita Orgiata. Ah, l'Orgiata, eh. L'Orgiata. Orgiata, ma mica Orgiata di batteria di quello che sta a pensare a te. Orgiata dalla strada sua Cassia, Orgiata sua Cassia. Allora l'Orgiata. Orgiata, l'ho detto io, Orgiata. Sì, vabbè, vabbè. Orgiata con la L. Orgiata, Orgiata con la L. Ecco, sì, Orgiata con la L.